Oggi si occupa soprattutto di Prodo, il teatro stabile di Napoli, ma che comunque nasce da quello che era un tempo il teatro del fondo e che quindi apparteneva alla scuderia barbaia, per cui lo stesso Mercadante nasce nell'ambito di quella scuderia lì, come molti altri compositori che a Napoli avrebbero fatto fortuna. E dicevo, ecco, prossimamente, il giorno 8 novembre, ci sarà un concerto d'orchestra e teatro diretto da Riccardo. Salutiamo la guardia e andiamo a casa. Dunque, oggi, come forse saprete, è stata una giornata lunga, ma domani sarà più lunga naturalmente. In questa settimana passano per il Senato, passa il mondo praticamente, abbiamo le linee guida sul recovery, poi questa è la sintesi, poi dopo vi do tutto il titolo per esteso. La NADEF, la risoluzione sul Consiglio europeo e anche la legge di delegazione europea, che non sapete cos'è, però onestamente non lo sapevo neanche io, questo è una legge con cui una volta l'anno, in un immenso provvedimento omnibus, si recepisce una quantità sterminata di regolamenti direttive più che altro europee, le si inseriscono nell'ordinamento italiano, specificamente dando al governo dei criteri di delega, il Parlamento delega al governo, che cosa? La potestà legislativa inerente al recipimento della normativa europea, cioè arriva la normativa europea e il Parlamento dice al governo vorrei che tu scrivessi, che tu recepissi, che tu sovrascrivessi le norme italiane con quelle europee che risultano da questa direttiva, però cortesemente fallo all'interno di questi binari che ti do. Quindi fondamentalmente questa settimana ci carichiamo tutto quel 70% di leggi che ogni anno ci vengono dall'Europa, ragioniamo sui prossimi 20-30 anni del nostro paese, sia con il recovery che con, per il prossimo triennio, la Nadef, poi abbiamo il piacere di ricevere nell'aula del Senato il signor Presidente del Consiglio che va a parlare al Consiglio europeo del 15 e del 16 prossimi di quattro temi che sono la Brexit, il Covid, il clima che si sta rinfrescando e le relazioni internazionali, cioè i nostri rapporti con l'Africa, ovviamente trascurando i dettagli come quelle migliaia, insomma, non mi ricordo quanti erano ieri, i 7-800 che arrivano ogni giorno, a me, diciamo, non danno nessun fastidio, ma io abito ai parioli e, diciamo così, questo quindi non è mai stato un problema per me, come per tutti quelli di vita, come il fondo. E quindi, mentre faticosamente si negozia con gli alleati di centrodestra per capire quali posizioni prendere sugli specifici punti di questa mappa scala 1 a 1 del mondo che ci passa sotto gli occhi, e mentre ci si impegna a ragionare sul futuro del paese dando prova di buone intenzioni, per esempio la relazione sulle linee guida del governo alla redazione dello schema di piano nazionale di ripresa e resilienza che poi deve essere approvato dalla Commissione europea per diventare il piano definitivo che conterrà i progetti che poi verranno finanziati, in questo documento di fondamentale importanza che rimarrà nella storia dell'umanità, come la stelle di Rosetta, il codice di Hammurabi e, non so, forse qualche iscrizione di lineare B, non so adesso. In questo fondamentale documento è scritto che uno degli obiettivi è quello di invecchiare in buona salute, che per carità è una cosa che io sto cercando di fare e quindi, come vedete, la prendo a ridere, anche se naturalmente credo che al caro figlio, che invece sta invecchiando male, dispiaccia l'ironia, ma d'altra parte è uno scrittore che piace ai piddini, non può essere un praticante dell'ironia. Vabbè, mentre succede tutta questa bella roba, succedono anche delle cose interessanti, che a chi è nel dibattito, con la D maiuscolo naturalmente, l'unico dibattito poi di fatto, credo che possano procurare delle soddisfazioni intellettuali così, cospicue, forse addirittura poderose. Per esempio oggi la Banca d'Italia è venuta in audizione e senza particolarmente volerlo, perché sono cose che non si confessano volentieri, o per meglio dire forse non si confessano consapevolmente, con quel tono di arrogante supponenza che sappiamo essere proprio ai suoi stipendiati, insomma ai suoi funzionari, non so come chiamarli, che pensano di sapere tutto loro, perché una volta lì si faceva ricerca, mi ricordo che 30 anni fa, quando io ero all'università, la Banca d'Italia si occupava di fare politica monetaria, perché era ancora l'istituto di emissione, di fare vigilanza, e infatti non era mai successo che sotto il governatorato di una persona saltassero otto banche, anche se sono sempre saltate, ma otto, non al ritmo di otto a testa, di otto a governatore, altrimenti nella lunga storia dell'istituto di ex di emissione, voglio dire qua avremo solo macerie, insomma. E si occupava anche di fare ricerche e ci riusciva anche, nel senso che riusciva a fare abbastanza credibilmente, con un lag, un ritardo temporale, che all'epoca avevo stimato in 6-7 anni, le ricerche che 6-7 anni prima venivano pubblicate in America sull'economia americana, credibilmente 5-6-7 anni dopo la Banca d'Italia riusciva a pubblicarle in Italia sull'economia italiana. E quindi chiaramente per un giovane studente era un riferimento sotto diversi punti di vista, oltre a essere ovviamente un riferimento per il paese in quanto faceva qualcosa. Il problema è che per uno strano motivo, da quando ha smesso di fare l'istituto di emissione, quindi di fare seriamente politica monetaria, cioè di non essere un mero agente di una mente pensante situata altrove, avendo un sacco di tempo a disposizione, uno si sarebbe pensato che la Banca d'Italia facesse meglio la ricerca e meglio la vigilanza. Sulla vigilanza lascio giudicare a voi. Sulla ricerca, io quello ormai è un amore di gioventù, non me ne intendo più tanto, può essere che faccia dell'ottima ricerca. Ma diciamo che forse fa una cosa su tre che faceva prima. Con cosa ha sostituito le altre due? E ce l'ha detto oggi in audizione, con la politica. Perché sono venuti a dirci che fanno politica, ma con una grande semplicità, senza rendersene conto. Allora, io ho posto semplicemente due domande. Due domande che l'attuale presidente della mia commissione, il senatore Luciano D'Alfonso, Gloria della Terra d'Abruzzo, avrebbe definito angeliche in quanto non maliziose e filiformi in quanto concise. La prima cosa che mi sono permesso, ero lì, giusto per manifestare un segno di attenzione e di rispetto, mi sono permesso di rivolgere al funzionario della Banca d'Italia. La prima cosa è stata... Scusate, ma io ho delle difficoltà. Non gli ho nascosto il fatto che nel mio passato c'è anche una tesi sulla sostenibilità del debito pubblico, i cui metodi di indagine, devo dire, da allora non sono moltissimo cambiati. E quindi non gli ho precluso la possibilità di esprimersi in termini tecnici, rassicurandoli sul fatto che non i miei colleghi, diciamo così, diversamente leghisti, ma almeno noi li avremmo capito. La domanda era, mi spiegate come mai, secondo voi, il debito pubblico italiano non era sostenibile al 135% quando governavamo noi, ma secondo voi è sostenibile al 156% quando governa la sinistra? Perché questa storia, sinceramente, non è la prima volta che succede, eh? Perché credo che tutti vi ricordiate, avendo noi commentato questo fatto nel dibattito, con la D maiuscola, cioè nel mio blog, che gli stessi piddini che erano venuti a dirci fate presto, fate presto, perché il debito per colpa di Berlusconi, che ha delle abitudini particolari, è arrivato al 110%, è insostenibile, erano quelli stessi che per bocca del onorevole professor Piercarlo Padoan ci hanno poi detto, quando avevano portato il debito al 130%, che il debito al 130% era sostenibile. Quindi, c'è Berlusconi, debito al 110%, non sostenibile, arriva al 130%, c'è Renzi, sostenibile, arriva Salvini, debito al 130%, Salvini nel senso Conte, vabbè, però insomma, c'era una maggioranza con dentro Salvini, stesso debito al 130%, non sostenibile, arriva, riarriva Conte in un'altra forma, con questa volta sostenuto dal PD, debito al 156%, sostenibile. Allora ho detto, scusate, ma che criteri utilizzate? Utilizzate un certo tipo di test statistici? Utilizzate dei modelli? Perché altrimenti, capite bene, che qui, come dire, come nella canzone di Gaber, sulla destra e la sinistra, il debito è sostenibile quando è di sinistra, non è sostenibile quando è di destra, questa cosa potrebbe far sorgere dei sospetti. Parla uno, che fondamentalmente non ha detto niente, cioè, io, per carità, massimo rispetto, io questo non so, poi se è uno che ha più o meno l'età mia, magari siamo pure stati compagni di università, non so dove abbia studiato, che abbia fatto, quante pubblicazioni abbia, se ne abbia, perché sia lì, non me ne frega niente. Andatevi a vedere, l'ho messa, credo, su Telegram, comunque sta sul canale YouTube, sta su Twitter, la sua risposta. Una risposta che, ahimè, conteneva una menzogna. E questo è inaccettabile, cioè è inaccettabile che persone di un organismo sedicentemente tecnico vengano in Parlamento a mentire, perché la menzogna era chiara, inequivocabile, peraltro l'avevo pre-smentita, per cui non capisco perché venire a, diciamo, a allordare in questo modo la dignità di un'istituzione che comunque ha una storia da difendere e che potrebbe tranquillamente difenderla col silenzio, che è un'ottima strategia comunicativa. Ah, ma noi non abbiamo mai detto che il debito fosse insostenibile. Io avevo già citato l'intervista del 19 giugno 2019 in cui, guarda caso, al governo c'era una maggioranza sostenuta da noi, d'accordo? C'era un governo, scusatemi, sostenuto da una maggioranza a cui partecipavamo noi e il dottor Visco, governatore, diceva ah, tensioni, pericoli per la sostenibilità del debito, ma ovviamente a mercati aperti, ovviamente per metterci pressione addosso, perché so benissimo quali erano quei giorni. Erano i giorni in cui andavo lì nel salottino a Chigi, no? E l'altro tizio mi diceva ah, ma sì, facciamo la logica di pacchetto, perché volevano andare avanti con la riforma del MES. Cioè la riforma di quella istituzione finanziaria con cui adesso assolutamente vogliono che noi ci indebitiamo per motivi che sanno solo loro e anche noi in realtà. Quindi una balla. Quindi fondamentalmente, dato che per difendere questa posizione sono stati costretti a dire delle cose non vere, ci hanno sostanzialmente chiarito che loro fanno politica con altri mezzi. uno di questi mezzi è il dare la patente di sostenibile o insostenibile al debito e quindi lo scatenare o il placare, lo spread, l'influenzare negativamente o positivamente le aspettative dei mercati a seconda di chi sta governando in quel momento. Che per carità va benissimo. Va benissimo. Alla balla dell'indipendenza ci possono credere solo dei fessi. È normale. Si capisce che quella dell'indipendenza è una balla anche perché se tu sei indipendente da me, io devo essere indipendente da te. Io non so questi geni dove hanno studiato statistica se l'hanno mai studiata, ma se l'hanno studiata sanno che l'indipendenza è una relazione riflessiva, quindi non posso essere indipendente da te e se tu viceversa e al tempo stesso però tu dipendi da me, c'è qualcosa che non torna. Parliamoci chiaro. È tutta politica. E voi con chi state? State con un certo progetto politico. E quindi lo difendete. E va bene così. Però diciamocene queste cose in trasparenza. Non ammantiamoci di falsa scienza, di falsa oggettività, di falsa equanimità. State combattendo una battaglia giusta o sbagliata, una battaglia politica che io rispetto, la rispetterei di più se venisse condotta con lealtà, ma questo è un problema mio, una mia sensibilità che non vi voglio imporre. State facendo questo. Può andarvi bene, la potete vincere, può andarvi male, la potete perdere. Come sapete, quando si combatte una battaglia, se si vince si ha avuto ragione, se si perde si avrà avuto torto. Vi auguro di avere ragione, ma so che avrete torto. E questa era la prima. La seconda è stata ancora più spettacolare. Spettacolare ve la propongo come esempio dell'attenzione che bisogna sempre avere al lessico. una attenzione che deve essere costante, scrupolosa, perché la politica si fa comunicando, perché bisogna comunicare per raggiungere un punto di intesa. Quindi le parole sono fondamentali. All'inizio della sua relazione, il funzionario più alto in grado aveva detto che la banca centrale europea aveva aumentato la sua dotazione, la sua dotazione per il programma di acquisto di titoli. Ora, una dotazione, d'accordo, in italiano, è una quantità di risorse che viene dedicata ad uno scopo. un po' la radice etimologica è la stessa della dote, se ci fate caso, no? Anche la dote ha questa caratteristica, quella di essere una quantità di risorse destinata ad uno scopo. Quindi l'idea era, lessicalmente, si fa fatica un po' a capire, nelle parole del nostro simpatico audito, che la banca centrale europea se poteva suonare alle orecchie di chi non sappia l'economia e voglio aprire e chiudo una parentesi per ricordarvi sempre che non solo voi, ma anche i vostri rappresentanti hanno il pieno, totale e assoluto diritto di essere ignoranti, di non sapere l'economia. Cioè il sogno della Repubblica dei filosofi, del Parlamento di soli competenti o degli elettori che devono avere il patentino per votare, di chi è? Ma di quei fascisti dei peddini, cioè di quelli lì, di quelli che adesso, per bocca del ministro Speranza, vogliono nominare i capi caseggiato per venire dentro casa vostra a decidere, ora c'è un po' di luce ma poi scomparirà e vedrete il buio, così vi rilassate anche voi, rilassatevi, è buio e io vi... per decidere se siete troppi a una cena di famiglia, no? Ecco. Allora, molti miei colleghi che sanno fare altre cose, per esempio amministrare un comune o magari, non so, difendere una causa civile o penale in un tribunale o magari, che ne so, vendere automobili, qualsiasi cosa, hanno il più pieno e assoluto e totale diritto di non sapere una mazza di economia e naturalmente però quando tu vieni a parlare da esperto non devi utilizzare un linguaggio che li induca in ulteriore errore. Allora, la mia domanda, la seconda domanda ingenua, angelica, filiforme, è stata, mi scusi tanto, ma questi 500 miliardi alla BCE, ma chi glieli ha dati? Dove li ha trovati? Perché sa, nel dibattito c'è anche chi dice che questi miliardi vengano dalle tasse, dalle tasse dei cittadini, siano prelevati da qualche parte e poi, insomma, allora, parliamoci chiaro, il tizio non sapeva chi aveva di fronte, io sapevo chi avevo di fronte e quindi ero in vantaggio. Però, consentitemi un po' di slealtà, le battaglie si vincono anche così. Cioè, lui non aveva assolutamente la benché minima idea di che mondezza circoli in televisione, di che cosa gli economisti dà a dibattito o volevano non averla, non lo so. Cioè, noi abbiamo avuto gente, ma a quanta gente avete sentito dire che, ah, ma no, ma le banche centrali non possono creare moneta se non c'è, se non hanno l'oro, se non ci sono le tasse dei cittadini, perché se no sarebbe troppo facile. Lui ha detto così. Come in tutto il resto del mondo, la banca centrale compra titoli creando moneta. E non vi è alcun limite fisico, fisico, a questo processo. Bene. Lui lo ha detto, gliel'ho fatto dire, è filmato, è agli atti, non so se c'è uno stenografico di queste audizioni, non credo, ma ci sono i video, già circolano su YouTube. Perché allora la domanda successiva è ma se ne può stampare 500 dal nulla, creare moneta con questa parola vagamente blasfema, ma che ha usato lui e che è quella che si usa normalmente, gli economisti veri, non i cialtroni che scrivono editoriali sui giornali, che voi continuate a leggere, non so, perché non i cialtroni che vanno a fare i virologi, perché a questo punto dopo aver visto come si comportano i virologi ho capito perché gli economisti si comportano come economisti, non i cialtroni che vanno a fare i galli da combattimento nei parchetti televisivi, no? Gli economisti veri usano questo termine. Domanda, se ne ha creati 500, perché non ne poteva creare 5000 e perché non la piantiamo di miliardi di euro, perché il costo è esattamente lo stesso dal momento che capite bene che non si tratta di transazioni incontanti, no? Non credo che voi abbiate mai visto partire dei tir con delle valigette con dentro delle mazzette da 500 euro per comprare BTP da qualche parte, no? Sono tutte transazioni elettroniche. Allora, il discorso sarebbe diventato più interessante perché è ovvio che non si può creare moneta all'infinito dal momento che altrimenti si rischierebbe di scatenare dei fenomeni inflattivi ma è altrettanto ovvio che noi siamo in deflazione e che quindi di moneta se ne sta creando troppo poca. Perché? Perché? Il perché chi è stato nel dibattito lo sa perché le politiche di austerità non sono una politica sulla quantità del reddito. Tagliamo i redditi quindi ci sono di meno sono una politica sulla distribuzione del reddito. Sono una politica sulla distribuzione del reddito. il paradigma della moneta scarsa serve a veicolare delle politiche che come dire tagliano ma tagliano da una parte sola tagliano dalla parte di chi non ha e è per questo che aumenta la disuguaglianza. Il motivo è molto semplice per tenere l'inflazione bassa bisogna far aumentare la disoccupazione affinché i salari non crescano e la disoccupazione ovviamente aumenta se tagli gli investimenti se fai tutte quelle cose che il piano nazionale di ripresa e resilienza fa non dicendo di farle quindi tagli della spesa tagli delle pensioni aumento dell'imposizione fiscale sugli immobili ecco in quel modo con queste politiche con l'austerità cresce la disoccupazione calano i salari perché le pretese dei lavoratori sono domate dalla presenza di un esercito industriale di riserva eventualmente guarnito con anche ulteriori risorse come sapete come le chiamava quella signora lì e c'è solo un piccolo problema che siccome i salari sono il reddito della maggioranza tu in questo modo crei una sterminata platea di poveri e sopra pochissimi ricchi ma questo l'amico lo ha detto perché ha detto no ma è una decisione di politica monetaria tutto qua e me lo dici a me e me lo dici a me a me lo dici ma io sono un economista adesso stasera mi vado a vedere tu chi sei cosa hai scritto se hai scritto qualcosa quanto sei bravo quanto non sei bravo ma non me lo dividi a me con questa supponenza voi dovreste intervenire se foste veramente indipendenti e guardiani diciamo voi dovreste intervenire con chi nel dibattito dice scemenze e anzi grazie per aver detto involontariamente una cosa corretta una volta in audizione in una camera di questa di questa repubblica parlamentare grazie troppa grazia vi siete degnati di dire come stanno le cose bene allora noi adesso continuiamo a ragionare su come dovremo indebitarci con l'Europa se siamo abbastanza bravi da fare dei progetti tali per cui l'Europa ci dia il permesso di indebitarci con lei ma già è scritto che noi non saremo abbastanza bravi e non ci meriteremo l'insigne beneficio di indebitarci con l'Europa perché noi sicuramente non faremo dei piani sufficientemente belli sufficientemente green sufficientemente digital per essere finanziati dall'Europa noi andremo a parlare di questo e nel frattempo sappiamo perché abbiamo esempi in altri paesi e perché c'è stato detto che ovunque è così e potrebbe quindi essere così anche da noi che in una fase come questa basterebbe semplicemente monetizzare l'investimento pubblico cioè finanziare un livello di investimenti pubblici decenti direttamente con emissione monetaria perché come dice il grande in Frankenstein Junior si può fare e da oggi lo dice anche la Banca d'Italia prima lo hanno detto tutti gli economisti più una serie esterminata di banchieri centrali in giro per il mondo ma da oggi anche un funzionario funzionario una persona degna preparata del nostro ex istituto di emissioni quindi ora sappiamo che si può fare e si dovrebbe fare perché se ci preoccupa la deflazione se perfino Piercarlo è stato costretto a dire che le previsioni della Nadef non lo convincono tanto perché l'idea che l'inflazione torni al 2% nei prossimi 20 anni se continuiamo così è un'ipotesi siderale non esiste allora è chiaro che siamo in deflazione è chiaro che si dovrebbe stampare moneta ma non per immetterla nel circuito finanziario per spenderla direttamente consentendo allo Stato di intervenire sulle infrastrutture imprenditori che si spaventano ce ne sono in ascolto cioè io sinceramente in questo momento vi devo dire la verità ho più paura quando sono in autostrada a passare su un viadotto d'accordo piuttosto che paura di arrivare dove devo arrivare e pagare un filone di pane con una carriola di carta moneta quale delle due paure alla luce di eventi recenti vi sembra più fondata nell'Italia del 2020 perdonate la rima involontaria secondo me più quella di essere vittima di un'infrastruttura pericolante guardate che quando Giulia l'avvocato buongiorno il senatore buongiorno la senatrice buongiorno la mia collega è venuta in Sicilia si è staccata una lastra di marmo e gli è caduta addosso quello lo hanno visto tutti perché Giulia è una persona di spicco la circostanza era particolare ma forse a qualcuno è sfuggito che 48 ore prima si era staccato una finestra da un'intelaiatura a Siracusa se non ricordo male aveva ferito una studentessa cioè ogni giorno un pezzo di questo paese cade addosso a qualcuno o ogni giorno qualcuno cade di sotto con un pezzo di questo paese d'accordo? e stiamo ancora a preoccuparci della inflazione che è una cosa che esisteva negli anni tardi anni 70 semplicemente perché il pezzo del petrolio era decuplicato in un decennio quindi sai se oggi il barile andasse a 500 euro probabilmente qualcosa succederebbe ma ci va il barile a 500 euro? e soprattutto noi nel frattempo abbiamo imparato a diversificare il nostro mix di foti di energia quindi di che parliamo? di che parliamo? parliamo del niente parliamo del desiderio di pochi ricchi di sopraffare tanti poveri quindi parliamo del mondo come è sempre stato come è sempre stato e per far finta che il mondo oggi sia diverso ci ammantiamo di bontà di buoni sentimenti raccattiamo su tutti anzi importiamoli e quindi abbiamo anche un'altra cosa che c'è sempre stata abbiamo i negrieri perché anche quelli ci sono sempre stati e poi abbiamo le epidemie che ci sono sempre state e così si continua continuiamo a a a prenderci in giro si potrebbe si potrebbe campare meglio certo si potrebbe non sarebbe naturalmente così difficile però io non essendo un europeista non ho questa visione irenica sapete che Irene è la pace della storia non penso in particolare che l'Europa ci dia la pace penso anzi che la guerra il polemos ci sarà sempre penso che il conflitto esisterà penso che il conflitto vada gestito non può essere gestito con la sopraffazione impedendo le manifestazioni a colpi di dpcm impedendo l'espressione delle libere opinioni a colpi di comitati contro le fake news penso che sicuramente l'Europa non ci dà la pace ma penso che tutti gli uomini vogliano la pace ma penso anche che gli uomini vogliano essere lasciati in pace gli italiani vogliono essere lasciati in pace gli italiani non vogliono continuare a sentirsi dire che loro devono riformarsi perché non ne possono più perché non ne possono più e perché non è vero perché gli italiani hanno fatto tutte le riforme che gli sono state chieste e che gli sono state chieste da persone che non avevano la legittimazione politica a chiedergliela in modi fra l'altro abbastanza irrituali perché tutte le riforme che la cosiddetta Europa ha chiesto agli italiani e gliele ha chieste con la lettera della BCE dell'agosto 2011 gli italiani le hanno fatte c'era chiesto di riformare le province fatto da Del Rio c'era chiesto di riformare il mercato del lavoro fatto da Renzi e Poletti c'era chiesto di riformare la pubblica istruzione fatto con la buona scuola da Renzi c'era chiesto di riformare il settore bancario non era chiesto lì ma era nel progetto di un'unione bancaria fatto col Beilin d'accordo? e tutte queste riforme in qualche modo hanno fallito e hanno fallito in un modo tale che perfino quelli che sono stati ascari agenti feroci di questa ansia riformatrice che non era nell'interesse del paese perché non proveniva da un processo democratico interno al paese adesso si smarcano e io devo assistere allo spettacolo di un conte che dopo che era stato il veicolo dell'opposizione della Banca d'Italia allo sforzo che avevamo fatto per come dire temperare per esempio la riforma sulle BCC per prendere tempo per analizzarla meglio Banca d'Italia non voleva Banca d'Italia vuole sterminare le BCC questo è chiaro in qualsiasi documento ci sono affermazioni anche menzognere su risultati dopo aver fatto di tutto adesso Conte improvvisamente torna indietro e dice che sulle BCC ma erano tornati indietro anche sul Beilin adesso il Beilin è destabilizzante quando lo diceva solo Claudio Borghi nel 2013 invece andava bene poi dopo nel 2015 si è visto cosa è successo 5 anni dopo tutti arrivano dove Claudio era 7 anni prima ma Claudio è quello cattivo Claudio è quello cattivo e allora però amici cari io che cosa vi devo dire vi ricordate quando Prodi disse che non so che nella vita c'è anche il suicidio eh ragazzi nella vita c'è anche il fallimento se un imprenditore crede a degli imbonitori cialtroni di mercato da 4 soldi che gli parlano da qualche giornale o da qualche televisione anziché andare a verificare se quello che diciamo noi poi succede perché purtroppo succede vorrà dire che lui preferisce avere le informazioni sbagliate e vorrà dire che fallirà noi siamo per sostenere comunque tutta l'economia stiamo dalla parte degli imprenditori vorremmo fare una riforma fiscale avevamo anche cominciato abbiamo fatto un inizio di flat tax per cui la gente ci incontra e ancora ci ringrazia come del resto ci ringrazia per quota 100 abbiamo dimostrato di poter fare ma se proprio volete farvi informare da persone che l'economia non la sanno o sanno quella che fa comoda loro accomodatevi cioè voglio dire fa parte della libertà anche questo io non voglio imporre le mie opinioni penso anzi quasi di non averne non me ne frega niente di avere delle opinioni non è questo il punto il punto è un altro io vi sto riferendo dei fatti e questi fatti sono che punto primo la banca d'italia non ha una metodologia oggettiva di valutazione di sostenibilità del debito c'è stato detto ma facciamo delle previsioni a lungo termine sì d'accordo ma ragazzi nel lungo periodo saremo tutti morti o sarete tutti morti quindi di che stiamo parlando me lo venite a dire a me previsione a lungo termine che le faccio da 30 anni a questa parte cioè so come funziona quel business e poi c'è stato detto che le banche centrali possono creare moneta ad libitum a piacere senza che questo costi nulla a loro quindi sul perché poi non lo facciano si può aprire a questo punto un civile dibattito vogliamo continuare a pensare che la banca centrale deve essere un ostacolo sulla strada del governo e gli deve strozzare i finanziamenti perché altrimenti i governanti cattivi comprerebbero con i soldi stampati dalla banca centrale tonnellate di ostri che gozzoviglierebbero riempiendo piscine olimpiche di champagne e così e poi ubriacandosi e finendo miseramente a fondo delle suddette piscine vogliamo continuare a raccontare queste scemenze o vogliamo ragionare su come si può uscire da una depressione che rischia di essere più lunga e più tragica di quella della fine del diciannovesimo secolo che poi ci ha consegnati allegramente al ritmo di musichetta della belle epoca alla periodo delle guerre mondiali noi stiamo parlando di questo perché stiamo parlando di debiti che prenderemo e che ci porteremo appresso per 50 anni e stiamo parlando di previsioni che nel caso più roseo ci faranno tornare al reddito del 2007 30 anni dopo non so nel 2037 nel 2030 nelle vostre previsioni rose cioè stiamo parlando di una cicatrice che è stata inferta alla storia economica di questo paese e che si vedrà nei lunghi secoli a venire quello che sta succedendo adesso nel nel 2500 quando si guarderà la serie storica del pill italiano dal 1861 al al 2500 si vedrà ancora il buco che stiamo facendo adesso per andare appresso a delle ideologie fasulle e che queste ideologie siano fasulle lo ha detto senza volerlo dire senza accorgersi che lo stava dicendo oggi la banca d'italia in audizione insomma sentite io non voglio accalorarmi e non voglio annoiarvi voglio semplicemente andarmene a dormire perché domattina alle 8 e mezza in teoria c'è il ministro Gualtieri in audizione in commissione bilancio poi ovviamente farò un po' tardi io dopo alle 9 devo andare nella mia di commissione insomma vabbè vi risparmio queste difficoltà ma andatevi a vedere lo trovate su twitter e laddove non l'abbia fatto ve lo metto adesso su telegram andatevi a vedere domande e risposte dell'audizione di oggi sono molto istruttive grazie a tutti grazie a tutti